Un saluto per tutti e bentrovati, un'altra puntata dedicata agli ormai amici dell'Umanitas Mater Domini di Castellanza con un altro tema ancora una volta molto molto attuale per riguarda la salute di molti di voi. In questo caso parliamo delle vene varicose, un problema non solo estetico rispetto di quanto si possa pensare che colpisce un'alta percentuale di popolazione, in gran parte femminile, ma non solo. Ne parliamo con due esperti specialisti della novità della Mater Domini, cioè il nuovo centro di chirurgia venosa. Sono i dottori Giorgio Ovidio Bitossi, benvenuto, e Jean-Daniel Rostan. E benvenuto anche al dottor Rostan, dal quale partiamo chiedendogli la cosa più banale di tutte. Che cosa sono le vene varicose e come si presenta? Le vene varicose sono una malattia benigna che si presenta in un'alta percentuale di persone che coinvolge sulla popolazione europea il 35% circa della popolazione. Ma se raffiniamo questa popolazione considerando per esempio il sesso femminile sopra i 50 anni la percentuale cresce notevolmente perché arriviamo a superare il 50% della popolazione. Sono una malattia benigna, sono una malattia che riconosce un'origine certa, genetica, geneticamente determinata, ereditaria, quindi la mamma, il papà, la famiglia ci fanno questo regalo, ma che trovano un peggioramento nella sintomatologia e nell'apparire di questa malattia anche negli stili di vita, quindi uno stile di vita particolarmente sedentario. Un forte sovrappeso unitamente ad abitudini non buone come il fumo, che ritroviamo in medicina un pochino dappertutto, possono contribuire e contribuiscono da letteratura al peggioramento della malattia. E come si cuore questa malattia? Una volta che abbiamo questa malattia su di noi, con la comparsa esteticamente evidente di vene dilatate molto gonfie o anche di un gonfiore inapparente delle gambe, quindi in quel caso avremo necessità di una visita specialistica, la strada è duplice, possiamo considerare una terapia di mantenimento, quindi decidiamo di ridurre i sintomi e utilizziamo per esempio dei rimedi come le calze elastiche, che oggi ci vengono anche incontro con nuovi presidi, più belli, più comodi, più maneggevoli, ma essendo una malattia progressiva non abbiamo altra possibilità nel momento in cui i sintomi e l'aspetto delle gambe fossero decisamente invalidanti della terapia chirurgica. Terapia chirurgica che si avvale della tecnologia ancora una volta? Sì, la tecnologia recentemente supportata da linee guida nazionali e internazionali consolidate ci permette oggi di guardare al trattamento di questa malattia non più con interventi invalidanti, quindi basta grosse cicatrici, basta grosso stop dall'attività lavorativa, agonistica per le giovani persone che ne sono affette, la ripresa è pressoché immediata. Senta, dottor Bitossi invece volevo coinvolgerla per capire, anche perché con l'aiuto delle immagini abbiamo visto un po' una tecnologia che utilizza il laser e volevo anche legarmi ad altre patologie che con l'Humanitas Mater Domini stiamo conoscendo nella componente della cura perché quelle che stiamo presentando qui non sono solo malattie molto diffuse, sono anche malattie assolutamente curabili e soprattutto guaribili con sistemi che agevolano anche il post-operatorio, insomma la guarigione la rendono meno impattante e più agevole. E' anche il caso in specie? Assolutamente sì, alla luce delle nuove linee guida internazionali noi abbiamo a disposizione delle nuove metodiche che utilizziamo per aumentare ovviamente la sicurezza nei confronti del paziente, l'efficacia del gesto che facciamo per la cura della patologia e migliorare sia l'aspetto estetico finale che anche il decorso post-operatorio. Tra le metodiche non invasive per il trattamento della patologia varicosa abbiamo appunto il laser anche nel trattamento delle varici. Il laser permette di trattare tramite un ago, con la puntura di un ago la vena, si inserisce all'interno della stessa un catetere che viene posizionato sotto controllo ecografico nel punto che ci serve. Una volta posizionato e quindi avendo la sicurezza di tutto quello che è la procedura, si fa l'anestesia intorno alla vena localmente e il laser viene attivato distruggendo irreversibilmente la vena internamente. Questo ci permette di non fare tagli chirurgici, quindi operare semplicemente con quell'inserimento del lago e lavorare in anestesia locale, quindi non più un'anestesia che ci impedisce di riprendere l'attività in pochi minuti, ma avendo il confort totale della situazione. Oltre al laser c'è anche qualche altra metodica? Oltre al laser oggi abbiamo ulteriori metodiche non invasive che sono il futuro a breve termine. Tra queste abbiamo la colla che ci permette di passare, fare un ulteriore step in avanti nel confort del paziente perché non necessita neanche più dell'anestesia locale come con il laser e non necessita neanche di una compressione post-operatoria con la calza elastica, cosa che con la metodica laser o le metodiche termiche invece va ancora utilizzata. Volevo rubare, dottor Rostan, 30 secondi per un'ultima domanda. Siccome abbiamo capito la componente ereditaria che spesso c'è nelle vene varicose e siccome la parola d'ordine di queste puntate è sempre prevenzione, un corretto stile di vita può evitare l'insorgere del problema. Assolutamente sì. Se sono afflitto in linea teorica da questa malattia perché mamma e papà o uno dei due ne ha affetto, io dovrò fare le uniche cose che la letteratura mi mette d'obbligo per prevenire la comparsa di queste malattie. E allora uno stile di vita attivo, gli anglosassoni dicono un'attività fisica lieve e moderata, un controllo del peso corporeo e in situazioni a rischio, quali possono essere una normalissima gravidanza o il posto di lavoro che mi costringe a un'attività molto sedentaria, sia seduto che in piedi, l'utilizzo di un tutore l'asto compressivo, cioè di una calza. Grazie, grazie ai dottori Rostane e Bitossi, molto chiari ed espliciti. Per qualunque ulteriore informazione sapete che ora l'Humanitas Mater Domini di Castellanza ha proprio un centro specializzato per la cura delle vene varicose. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci.